Musica Bentornati ragazzi nel secondo episodio Stiamo scavando qui in questa miniera Siamo piuttosto Voglio prendere tutto questo call La chiedete per favore Tienila che può essere comoda Ma ha salvato il culo Poi c'hai un creeper che ti insegue Ok lo chiusa così così lo possiamo riaprire quando serve Eh sento entità Cioè sento zombie 16 17 20 Uno spawn può essere 20 sono tanti Eh però è pericoloso cavolo Ah ecco di più qua Sì è qui sotto la caverna lo sai? Dove serve torcia? Eh guarda qui Qui a sinistra No no te serve Ah ok no 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 aspetta una fence raga Ho trovato una fence Sì ho trovato anch'io il luogo lì Quello È qui sotto proprio Qua vedete Vedete? 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 Però ci sono i rani belenosi ragazzi eh Quindi è un casino così ragazzi Se ci stanno i ragnatele non stai attenti Ok? Allora Ma non picchiano i pipistrelli vero no? Non ti fanno male? No questa lì no no Vabbè Morduk andiamo dai C'ho una paura facile aspetta Il secondo Allora Più che altro è chi Avete torciato bene? Sennò io mi trovo un mob sopra Vediamo un po' No il fatto è che là ci sono ragnatele Qua Oh sento No È a dritto A dritto lo chiudo eh Così No cazzo C'è un ragno C'è un ragno Eh ma se non muori Morduk No 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 Fatto 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 Attento No è un pipistrello quello Ok l'ho esattato un attimo Da sopra è venuto È venuto da sopra Da sopra Dalla testa Da sopra E non qua non c'è niente Eh da lì è passato Allora è ancora notte ragazzi Quindi No là ci sarà uno spawner Sì appunto chiudiamo Sì Io ci parlo dei ranni Dice a me Eh ma i ranni Eh là c'è un ranni infatti Eh siamo spuntati in un posto brutto per i ranni Pregato i ranni sono meno pericolosi Se ti metti in un blocco bello Eccolo Ranni arriva Oh non tanto cato L'ho ucciso Oddio scherro Scherro via 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 Non può sparare però giusto Perché nella ragnatela No può sparare però Non ci ha visto No la ragnatela non dovrebbe prenderlo Ragazzi dovete Aspetta si faccio così Ragazzi io ho trovato uno zombie C'ho paura Due zombie Non mi arriva Non mi arriva Non ti riesci a sparare No No ho sparato Vabbè ma non ho fatto nulla Si non ho fatto nulla Nulla Qua e mezzo No mezzo Lapislazzuli gold Ragazzi Enchanting book con Non vi dico che cosa Che cosa È la mia spada questa Aspettate che sto arrivando Mi fatevi attivare al sicuro Ok Allora Ho trovato un enchanting book Con la bellezza di Aspettate che chiudo Efficienza 3 Sharpness 3 Power 3 Fire protection 3 Quindi potremmo metterlo dove vogliamo Oddio Ok Allora Altro ferro Io ti rimettiamo Più sulla spada C'è tanta roba Raga unite un attimo da me Vi do tre corpetti qua Questo questo Ah Tieni No sei fregato Ok E più alto sotto c'è l'altro ferro ragazzi Avete preso Sì io ne ho presi sei Eccoli qua che stanno facendo No a parte lì ci sono altri pezzi di ferro di qua Aspettate che vado a prendere io Allora a sto punto Da nessuno li ha cagati quei unici pezzi Mi so cuocere io È vero questa cosa Che devo anche io La testa che funge come me la Faccio Ho fatto anche i cappellini Allora Tieni Questo lo metto io E tieni Adesso Faccio già la prima spada Ah tenete un po' di cibo voi Prendi a me Ok tieni Ah c'è un tre polli da cuocere Ma li metto a cuocere qualche parte Beh c'è un sacco io anche pure da cuocere Qua poi c'è un po' di roba Ti lascio questa roba Che questo non serve Così Più messi qua Posso fare l'altra spada Oh facciamo già faccio pure l'arco E c'abbiamo due frecce Perché hai preso dallo schede Dallo schede Tieni qua La spada Ora qua c'è l'ultimo pezzo La picca sarà più utile in realtà Che è precisi raga Avrei precisi per fare anche la spada Ora Vabbè Ah no qua c'è la del ferro Comunque che possiamo cucinare Metto Staccionato a cucinare tanto per Facciamo a mangiare tanto sui col C'è non finire C'è non 44 pezzi Ci volevo buttare Ok Questo è messo Ciao vai E farmi la spada Vieni qua Ulisse La spada Opla Con la spada? Sì sì Eh il piccone mi sarebbe più utile Eh Non ci abbiamo altri pezzi di ferro Ah vabbè 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 Allora io faccio così Torno alla mia strada Facciamo un po' di luster Ci dividiamo per un po' Sennò troviamo la stessa roba Troviamo Ho sentito il zombie Dove? Hai ridotto È molto tranquillamente Conviene andare giù Morduk qua c'è del ferro Puoi farti piccone Ok Eh aspetta Ulisse Scendo con te Ok Vieni da una parte Che ci sono due zone Che in realtà vuoi farti Esplorare C'è una potevo esplorare Io All'altra tu Magari Allora Morduk qua sotto È un casino Che fa? Oddio gente Pure i creeper Brutto Infatti Mori Cosa? Ok Però dobbiamo scendere Di qua In casa Ok Oh c'è un creeper proprio sotto di noi Sì sì Aspetta Non sta salì Non fate le scale Tranquillo 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 È scomparso Ah no eccolo qua Eccolo Nulla scompare Ok Ok ucciso Ora c'è un problema Morduk Sotto c'era anche Uno zombie piccolino Oddio quello è veloce Eh sì Quello O ve lo fate Pian piano Da che parte? Da quella? Di distanza Da quella mi sa Sì Eccollo Eccollo Oh Vai 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 Presto Dan Ucciso 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 Vai morto Scendi tu ora Ok Uuuuh Non morite Non morite Non morite Non morite No 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 Farlo salire Farlo salire Lo siamo a piacere Pigni e non può salire Eh beh immaginavo Eh sì Fatti faccio un piccolino Tipo con due scale Uh Ok Che c'è mancato Che mi toccava Oh eccolo ragno 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 Arriva Arriva qua Aspetta Piccolino Vai Ok Non ho messi più o meno Oh ok Che no Io vabbè Oh oh Ti ho perso mezzo cuore Buona 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 No l'ha perso L'ha perso Ho ottenuto No Mordo Mordo che mi pilli Ah di sotto dici Mordo che fidati di me Guarda ma che ci faccio Io non mi fido Ho paura Aiuto Ci ho paura Senso rumori di zombie No ma qui ragazzi Sono tantissime entità Veramente Eh beh C'è la chiusura Spanto Guarda qui Non penso che ce ne sia uno solo Però Eh lo so però Si è disposto in modo che uccido E facciamo Un'apertura d'acqua per vedere Eh sì più che altro Eh mi attento Oh no Quello veleno Sono No hai preso veleno Come diamine mi ha preso Dove Scusami È da dove era Non può beccare I maggiori blocchi Eh non lo so Non me ne è uscito No Ok cerchiamo di usare divisi Così almeno possiamo Eh Diamond to you lol Illuminiamo un attimo qua Sento la lava Sento Questa è una cosa buona Ah Dove stavo io Buona raga Oh In là sto Sono togliato Aspettate che faccio una Ok Allora Dungeon 8 7 Dungeon 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 C'è sta la linea del dungeon Qua sopra Di fronte a noi Qua sotto c'è la C'è la Raga un po' di Diamante 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 Per la Raga 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 venite qua Per questo Raga venite qua Pizz Sì sta qua Allora Raga Due Due diamanti Facciamo l'inchander Facciamo eh Mi raccomando Tre diamanti Oh è finito anche l'episodio 40 minuti ragazzi Prossimo episodio Ciao 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 a tutti ragazzi